Quando un animale domestico muore spesso si dice buon ponte dell'arcobaleno, ma questo ponte è solo frutto dell'immaginazione o c'è qualcosa di più? Il ponte colorato è stato protagonista di alcune poesie scritte tra gli anni 80 e 90 e si riferisce a un al di là per gli animali domestici. La leggenda narra che quando gli animali ci lasciano vanno in questo enorme prato verde, tornano in perfetta salute, corrono e giocano tutto il giorno. C'è sempre il cibo, acqua fresca e il sole splende. Tuttavia si dice che mentre l'animale è in pace e felice, aspetta la sua persona che ha lasciato sulla terra. E solo quando questa lo raggiungerà potranno attraversare fianco a fianco il ponte dell'arcobaleno verso il paradiso. Anche se vorremmo che rimanessero per sempre con noi, gli animali ci lasciano, superare la loro perdita non è facile, è estremamente doloroso e traumatico. Spesso noi non ne parliamo perché c'è un po' la percezione che abbia meno valore trattandosi di un animale, ma chi l'ha vissuto sa che il respiro viene a mancare e ci chiediamo come faremo senza di lui. Eppure ognuno di noi deve andare avanti. Facciamo quindi delle pratiche per elaborare quello che è successo, ad esempio il funerale. Ecco, seppellire il nostro compagno ci permette di salutarlo, di sapere dov'è e quindi essere anche più tranquilli, proprio come quando si metteva nella sua cuccia. Ci rassicura perché sappiamo che possiamo anche andarla a trovare se sentiamo questa esigenza. Sono sempre di più anche in Italia cimiteri pubblici dedicati agli animali d'affezione. La società è cambiata, per fortuna, e quindi la sensibilità è aumentata e ora le amministrazioni sempre di più danno sostegno pratico alle persone che subiscono questa perdita. Così, quando il nostro compagno di vita muore, noi possiamo attuare questi rituali consolatori e iniziare a passare tutte le fasi della perdita. Anche perché non è semplice e non è uguale per tutti, il lutto è un viaggio che ognuno fa a modo suo. Ci sentiamo assorditi, vorremmo protestare contro quella che per noi è un'ingiustizia. In fondo noi abbiamo solo il desiderio di ritrovare il nostro compagno e ci disperiamo perché non possiamo farlo. Solo il tempo lenisce il dolore e solo l'accettazione che la morte sia nell'ordine delle cose che succedono a tutti gli esseri viventi può aiutarci. Può aiutarci ad arrivare ad un nuovo modo di porci nella nostra vita quotidiana, perché in fondo la verità è che ognuno di noi tenta di riorganizzarsi, no? Nella consapevolezza che se n'è andato un pezzo di noi. E il ponte dell'arcobaleno, così nell'immaginario collettivo, diventa un posto in cui siamo ancora con il nostro compagno di vita, anche se in modo diverso da come era prima. La leggenda è nata dai nativi americani, quindi un popolo che ha sempre vissuto in armonia con la natura e con ogni creatura terrestre. E quindi la loro cultura e questa credenza può armonizzarci con le leggi della vita, che ci aiutano ad accettare una perdita che prima o poi purtroppo è inevitabile. Il ponte ci dà un po' quella speranza di ritrovarci, di cui parlavamo prima. Tu non vivresti meglio sapendo che lo rivedrai? Come narra la leggenda? Quando finalmente sarete insieme, lo stringerai tra le braccia con grandissima gioia. Una pioggia di baci felici bagnerà il tuo viso, le tue mani accarezzeranno di nuovo quella amata testolina. E i tuoi occhi incontreranno di nuovo i suoi, sinceri, che tanto ti hanno cercato, per tanto tempo assenti dalla tua vita, ma mai dal tuo cuore. E allora insieme attraverserete il ponte dell'arcobaleno per non lasciarvi mai più. Non ci sono fonti certe sul perché si sia scelto un ponte dell'arcobaleno come simbolo, ma l'idea è un po' quella che alcune religioni non hanno mai voluto concedere agli animali un'anima. Per il cristianesimo gli animali non possono andare in paradiso, ma per gli indiani d'America invece gli animali non solo dovevano avere un posto, dovevano avere un loro posto di pace eterna. D'altronde chi se lo merita di più. L'arcobaleno è uno di quei fenomeni naturali che ci lascia invece sempre un po' a bocca aperta, e quindi per questo ha assunto tantissimi significati. Per i greci infatti era Iris, messaggera degli dei per i mortali. I cinesi lo ritengono il ponte tra il cielo e la terra. Per i Navajo, un popolo nativo americano dell'Arizona, è un serpente da cavalcare verso il mondo spirituale. I significati che tornano sono sempre vita, pace, cambiamento, creazione, spiritualità, unione, passaggio, ma alla fine noi che cosa sentiamo nel guardarlo? Ci fa respirare in un momento dove tutto sembra nero, l'arcobaleno ci dona colore. Ricordiamo l'arcobaleno sui nostri balconi durante la pandemia? Veniva spesso fatto disegnare anche ai bambini. Ecco, è importantissimo sostenere e accompagnare proprio i bambini nei momenti difficili e la morte dell'animale è uno di questi. La morte di un cane o di un gatto spesso è la prima esperienza di morte per tantissimi di noi ed è un momento estremamente delicato. I bambini ci chiedono in continuazione, dove è andato il mio amico? Cercano una spiegazione che spesso non sappiamo dargli o che forse è troppo dolorosa anche per noi adulti da dare, ma è nostro compito guidarli. Cioè i bambini non hanno una percezione di cosa sia il permanente, quindi anche la morte per loro non è per sempre e così si aspettano che l'animale prima o poi torni da loro. È importante accompagnare i bambini alla verità, così da dare anche una chiave per affrontare i momenti più difficili che la vita sicuramente metterà loro davanti. Se volete un supporto su come spiegare ai bambini la morte di un animale, sul sito di Kodami potete trovarlo. I bambini poi hanno una forte percezione di loro stessi e da piccoli non riescono a fare dei collegamenti complessi con quello che accade nel mondo esterno a loro. Per questo se il nostro animale non è lì dove è sempre stato, la responsabilità la cercheranno nel loro piccolo mondo e potrebbero sentirsi in colpa per ciò che è accaduto. Ma diciamo la verità, rimanere senza i propri compagni di vita è difficile ad ogni età. Quindi fermatevi e pensate a quel grande prato verde, al vostro cane che sta bene e che quando vi vede sventola felice la coda, i suoi occhi si illuminano e le sue zampe iniziano a correre velocemente verso di voi. Non ci sono verità scientifiche o certezze su quello che può esserci dopo la morte. Quello che sappiamo è che ognuno di noi vive il lutto, una fase naturale della vita, a proprio modo. E la cosa importante è trovare un modo per superarlo. E il conforto può darcelo anche solo l'immagine di quel ponte dell'arcobaleno. Se te la senti lasciaci qui sotto un ricordo del tuo animale domestico. Anche scrivere e condividere può essere d'aiuto.